Siamo qua nel salotto di Laura Penaglia, architetto e tra le altre cose anche paesaggista. Ti ringraziamo per l'ospitalità e vorremmo parlare oggi di due argomenti. Il primo riguarda le piazze. Nel comune di Massa in questi giorni è scoppiata un po' la polemica circa la progettazione e anche la messa in opera di alcune piazze, ma che significato ha la piazza per una comunità, non solo da un punto urbanistico? La piazza è uno spazio che a seconda del quartiere, degli obiettivi che si vuole ottenere nel quartiere, cambia funzione. Può essere una piazza di rappresentanza, può essere una piazza di accoglienza, faccio un esempio. La piazza di San Carlo Terme, che è stata ultimamente progettata, non tiene conto di che cosa è il quartiere di San Carlo Terme, è una zona termale, si presume che abbia uno sviluppo turistico termale. La piazza non è stata studiata per questo scopo, perché chi va alle Terme ha necessità di avere un luogo a meno di piacevolezza fisica, di godimento fisico dello spazio circostante. Questa piazza è una grande lastricata in terra, non esiste in mezzo alla piazza o sistemate alberature che facciano fresco, quindi se io vado alle Terme non potrò godere del paesaggio in maniera piacevole. Se invece ci fossero stati degli alberi, io potevo godermi del paesaggio della valle seduta in una panchina all'ombra e quest'ombra mi avrebbe creato una piacevolezza di godimento della valle, del paesaggio. Quindi non sviluppiamo le caratteristiche del luogo come sviluppo turistico termale. Non esiste una fontana ad oggi nella piazza, in modo che io quando vado ho bisogno di lavarmi le mani, bere dell'acqua, poi l'acqua è anche simbolo delle Terme, quindi non esiste un punto d'acqua dove una persona che ha sette, un bambino che ha bisogno di lavare le mani, un rinfrescarsi, non esiste. Sono rimasti solo gli alberi a confine con la strada Carraia, che è una strada di traffico perché serve tutta la collina, risulta che le panchine andranno messe sotto questi alberi. Errato come concetto, perché seduti lì non vedi il paesaggio, non godi del paesaggio della valle, ma sei soggetto ai rumori della strada, delle auto che passano e alle polveri e ai fumi di coloro che passano. Quindi proprio il suo concetto di piazza non funziona, perché è tutto il contrario di quello che si dovrebbe avere per valorizzare una zona termale. Poi ci sono altre piazze che devono essere discusse, sono in progetto, alcune sono state realizzate e a mio parere non correttamente, perché non solo si sono scelte delle alberature di un certo tipo e in un numero tale che a regime non funzioneranno, perché ogni pianta ha necessità, la pianta non si piantuma quando la compri da astone, ma la si deve piantumare in funzione delle sue dimensioni e delle sue necessità a regime. Sono stati scelti dei platani che sono piante di terza grandezza, quando saranno a regime avranno almeno un diametro al piede di 60 cm, perché la pianta possa crescere, non danneggiare l'intorno con le radici e fare la funzione che deve fare, dovrebbe avere almeno un raggio di 80 cm, 1 m di terreno nudo, perché così può avere la vapotraspirazione necessaria alla pianta. I platani sono alberi che avranno una dimensione di chioma di un diametro di 6-7 metri e non sono stati calcolati lì, quindi o si spera che gli alberi muoiano, tra l'altro uno è piantato talmente vicino a una casa che quando a primavera aprirà i suoi rami, gli abitanti di quelle unità immobiliari non potranno aprire le persiane, allora saremo costretti ad abbattere quell'albero, quindi i soldi della comunità che vanno in perdita. Poi non si fa una piazza sollevata rispetto al piano del Carraio di 20-25 cm, deve essere un continuo, la dividi in base ai colori, in base a dei segni in terra, ma non può essere che io cammino e arrivo lì e devo alzare il piede, deve essere un passaggio continuo, invece è un tamburo, è diventata una piattaforma, non solo, anche qui gli alberi sono stati inseriti in maniera errata rispetto all'arco solare, quindi quando in pieno luglio-agosto il sole sarà al massimo, gli alberi si faranno ombra uno con quell'altro, ma la piazza non sarà ombreggiata, gli alberi avrebbero dovuto essere messi a valle, quindi al confine con piazza Matteotti e allora avresti avuto all'interno della piazza delle zone ombra. Hai parlato di funzione delle piante, a me per esempio viene in mente appunto quella della ombreggiatura, ma in realtà quanto è importante la scelta di una tipologia o di una pianta o di un albero piuttosto che di un'altra tipologia. Le piante hanno una serie di funzioni, dove la più semplice è l'ombreggiatura, ma c'è la funzione di decoro urbano e quindi si gioca sulla tessitura del fogliame, della coloritura dei fiori o del fogliame stesso. Però hanno un'altra funzione, la funzione di essere mitigatori degli effetti climatici e degli effetti inquinanti, perché il loro sistema permette per gli effetti inquinanti di abbattere le polveri sottili, mitigano il clima, quindi le temperature e riducono l'anidride carbonica fornendo ossigeno. Questo ruolo delle piante diminuisce la possibilità di virus, microbi e cose del genere, perché hanno proprio questo effetto. Sul clima invece hanno l'effetto mitigante sulle temperature e sul ruscellamento delle acque piovane, un po' perché le assorbono, un po' perché rallentano la precipitazione sul suolo con le fronde, la precipitazione sul suolo delle piogge e quindi hanno un effetto mitigante su queste cose. Poi c'è l'aspetto estetico e funzionale alla collettività. In un parco posso mettere piante di molte specie, perché essendo così all'aperto non hanno degli effetti secondari. Dove faccio un parcheggio non posso mettere delle piante che hanno resine o lattici, perché mi rovinano le carrozzerie. Poi come si sceglie una pianta per un filare di un viale oppure per una piazza cittadina? Se noi oggi facciamo un'analisi dei bilanci dei comuni, vediamo che nei bilanci dei comuni la voce manutenzione o non c'è o se c'è ridottissima. Il verde ha necessità di una grande manutenzione. Allora, quando io devo scegliere delle piante da mettere in una struttura, in un sistema urbano, devo scegliere piante che abbiano, al di là dei primi 2-3 anni, perché tutte le piante hanno necessità di grande cura entro 2-3 anni dal momento dell'impianto, perché hanno necessità di reagire al trauma da trapianto. Poi dopo 2-3 anni la pianta si organizza per conto suo. Dopo io devo scegliere delle piante che non hanno più bisogno di manutenzione o se ne hanno bisogno, ne hanno bisogno dopo 5, 10, 15 anni. Devo scegliere piante che non siano sensibili all'inquinamento. Devo scegliere piante che oltre a avere queste caratteristiche mi diano anche all'interno dell'arco dell'anno una serie di immagini che siano piacevoli. Allora, qui a Massa noi abbiamo nel Viale Eugenio Chiesa il tiglio. Il tiglio, al di là delle sue piccole fioriture gialle, però rallegra perché ha un profumo intenso e questa è la piacevolezza del tiglio. Il platano è una bellissima pianta che io oggi metterei in un parco, ma non in città, perché oggi il platano è soggetto a delle fitomicosi e quindi prima o poi se tu fai un briciolo di potatura e non la fai fatta bene, il platano si ammala ed è costoso demolirlo, perché per demolire un platano malato, attaccato da funghi, bisogna fare un'operazione a tutela di tutto il resto che costano. Quindi si devono scegliere piante tipo la jacaranda, tipo il ginkgo biloba, il ginkgo biloba per esempio è una pianta che non reagisce assolutamente all'inquinamento, anzi pare che si trovi molto bene, è una pianta che ha uno sviluppo verticale, in pieno inverno è nudo, quindi per noi, per il nostro clima è importante che ci sia una pianta caducifoglia, perché con le nostre piogge e la nostra umidità abbiamo bisogno l'inverno di avere una buona qualità di soleggiamento e radiazione solare, perché ci asciuga le ossa e quindi mitica queste cose. In primavera assume i colori dal verde tenero, quasi da mela, si intensifica un pochino, in piena estate è bellissimo perché ha questa foglia a mo' di ventaglio e poi con un piccolo alito di vento la foglia si muove e dà tutta un'immagine piacevole e in ottunno acquisisce un colore giallo oro splendido, poi c'è anche il liquidamba stiraciflua, la giacaranda che fa dei fiori che può andare dal rosa al blu, ci sono una serie di piante tipiche e selezionate, perché hanno caratteristiche che all'interno di un ambiente urbano più o meno inquinante, reagiscono bene e hanno bassa manutenzione, quindi quando si progetta del verde per una città analizzando i costi, le risorse economiche che l'amministrazione ha in cassa per la manutenzione bisogna tenere conto di queste cose. Cosa ne pensi quindi delle potature che stanno facendo qui da noi a massa in particolare? Queste non sono potature, questi sono disastri ambientali fatti da incapaci che non sanno cosa significa potare un albero, un albero di quell'età non si pota con la capitozzatura senza mettere il mastice di disinfettazione, di cicatrizzazione al ramo tagliato, non si taglia nella maniera che si taglia, ma normalmente si taglia all'ascella, perché l'albero all'ascella ha un suo sistema immunizzante, non si fanno quei tagli da nazi skin, perché questo è come se uno andasse dal parrucchiere e facesse fare il taglio a nazi skin, è tutto rasato, gli alberi di una certa dimensione e di una certa età si fanno interventi di potatura che si chiamano di riforma. Questo modo di potare corretto mantiene l'albero nella sua forma, non lo fa malare, non ha grandi sviluppi l'anno dopo e quindi la manutenzione nel tempo si allunga, non solo, ma non perdiamo la cosa importante dell'albero che è la fronda, bisogna mantenere la fronda perché grazie alla fronda dell'albero, alla chioma che hai il sistema di depurazione dell'aria, invece potando in questa maniera l'albero se ti va bene, se non si ammala perché le cicatrici da taglio non vengono, le ferite da taglio non vengono cicatrizzate, prima o poi si ammala e quindi lo devi abbattere tutto e tu perdi un patrimonio perché un albero di quel genere minimo ha 80 anni, per avere un albero di quella struttura che abbia questa efficienza ed efficacia nell'ambiente deve avere una certa maturità, quindi è inutile che tu mi abbatti un albero di 80 anni per mettermi un astone, quell'astone mi costa di più dell'albero perché l'albero maturo con niente mi fa un ottimo servizio, ha una grossa efficienza sulla salute dell'uomo e dell'ambiente, l'astone lo devo curare prima che abbia la capacità che ha l'albero maturo, quindi fare le capitozzature e eliminare totalmente le chiome come stanno facendo, non solo l'albero l'anno dopo cresce male, fa meno fronda e rischia di ammalarsi, ma sono veramente oscene a livello estetico, ma questa è l'ultima cosa che non è che non vada considerata, perché certe alberature, certi filari fanno parte del paesaggio urbano e il paesaggio è tutelato dalla Costituzione. C'è un altro progetto che sta suscitando parecchie polemiche nel Comune di Massa, è il progetto della nuova piazza della stazione, leggendo un po' i giornali, le polemiche sui social si ha quasi l'impressione che ne sia nata una diatriba tra tecnici e dirigenti in qualche modo e noi cittadini ne rimaniamo un pochino fuori, nel senso che si ha la sensazione di essere distanti dalla progettazione, distanti da un coinvolgimento per quello che poi in realtà dovrà essere una piazza usufruita da noi. Cosa ne pensi? Quali sono le tue osservazioni in merito? Intanto credo che si cerchi di scaricare sui colleghi progettisti delle cose che invece appartengono a una scelta dell'amministrazione e il collega rimane coinvolto ed è costretto a fare delle cose che spesso non c'entrano niente con la necessità di quel luogo e di quella piazza. Spesso, come si diceva per la piazza di San Carlo, non si tengono conto dei problemi che vengono dopo la realizzazione di un intervento che di per sé può essere anche piacevole, ma non c'entra niente con quel quartiere e con le necessità di quella realtà spaziale e soprattutto sono stati coinvolti i cittadini, perché in altre parti d'Italia e in altre parti del mondo, per riuscire a portare a termine un obiettivo di spaziale urbano si coinvolgono i cittadini e quindi alla fine fra una taratura e l'altra si ottiene un qualcosa che gratifica nei suoi obiettivi le amministrazioni, ma gratifica anche chi usufruirà di quello spazio. Grazie. Grazie.